Ciao a tutti ragazzi molto in questo nuovo video, oggi siamo su Bayday 2, un gioco dove bisogna fare rapine e tanta altra roba che ho comprato e volevo fare un video. Innanzitutto ringrazio tutti per i 50 iscritti e partiamo. Ok io direi di saltare, o cerchiamo di fare una rapina al negozio di gioielli in stealth, proviamo. Comunitare Franci è il più skillato diciamo, ha troppe lol, poi c'è Argus e poi ci sono io che l'ho comprato tipo da poco, troppo poco. Ma io tipo un botto e non ci c'è, occhio e te all'armatura ti vedi, ti scusami. Ciao. Aspetta passiamo dal retro, passiamo dal retro, vieni qua. Vieni qua, dove sei? Vieni dietro, qua dietro vieni. Oh. Occhio Argus e te all'armatura ti potrebbero sospettare. Quello mi dò... Occhio e vi c'è una telecamera allora... Ma questo è sospetto... Io ho uno di voi tre, no uno di voi due, scusa. Eh, si mette la maschera e dovete spaccare la telecamera. Vado io qui c'ho l'armatura. Ok a questa, no aspetta passate. Hai visto dove passate questa? Tu non sei normale, è passata qui sopra. Ok, ok puoi mettertela. Occhio e la telecamera subito dietro. Ok, scassino la porta. Faccio io. Cassino, scassino. Ah no, è vero, non posso. Eh, fai lui perché ha la maschera. No. Occhio e dentro c'è il poliziotto. Ah, l'uccido, c'è il direttatore. E poi risponde a cieca persona. Poi lo prendono il sacco, lo butto lì nel bidou. No, a parte non importa, tanto qua dentro non c'è nessuno. Non importa mettermi nel sacco. Vai. Perfetto. Ok. Sì che si risponde. E io dove mettiamo la maschera? Ok. Io spotto tutti dalla telecamera. Allora vediamo un po'. Ho una, è rotta quella lì. No, non c'è nessuno. ok allora qui c'è il travano allora ho visto una guardia che sta salendo no ci sentono il normale mi sa di no eh mi pare da overkill in poi o da o da molte difficoltà c'è solo un... io stai mi sa me l'ho fatta una polla di us vedo solo una guardia che sta salendo eh si non vedo nessun altro si è vero però attenzione alle telecamere io direi di mettere il travano qui? adesso adesso qui io lo metto il normale non ci dovrebbero sentire occhio e qui c'è gente su oh 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 sentono vado io vado io faccio io faccio io rispondi ok faccio io faccio io aspetta aspetta ok apri il cassone come no non si può aprire Franci non puoi aprire il cassone no buttalo qua dietro qua dietro qua ci passa poi vabbè stupendo se non se dove lo butto eh la dietro sia è stata che è spazzatura ma qua no si vede qui in un punto abbastanza nascosto vediamo qua dove sei? aspetta guarda ma qui dentro scusa lo posso buttare no? dalle telecamere non si vede niente cioè nessuno ma in teoria non è da solo tipo le telecamere non ci dovrebbero scoprire eh sono tutti lì vedi attento una qui dietro è un poliziotto ed è l'unico in teoria è un po' di 70 cento perché eh si scassiamo la porta qui aspetta aspetta con calma c'è solo quello di coliziotto non saprei che fare aspetta prima apriamo sta sta cassaforte aspettiamo la cassaforte qua se eravamo in overkill o molto difficile la focalista ci avranno già scoperto hai voglia oh cazzo aspetta la riavvia io c'ho la bida nasconditi nasconditi serve un civile 40 secondi uno guardia fuori uno guardia fuori occhi dietro fermi 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 ho il sensatore la faccio io no aspetta no non ammazzarli che avete fatto? no ora ammazzalo sto facendo io ok via dentro prendite il cadavro e ho finito i sacchi ah no adesso potremmo più i sacchi 5 secondi 5 vai prendo io vai prendo io oh cazzo ok questa è una cosa buona e dove lo mettiamo il borsa? lascialo qui per terra aspetta fatemi controllare quante guardie sono rimaste allora sembra non esserci più guardia raga guardia no però ci sono civili e quelle più dovremmo riasciare tipo di brutto io c'ho 6 fascette perché c'ho l'abilità sentiamo da qui eh dovremmo riasciare diciamo anche il coso io sto scassinando il fucilone silenziale è pronti eh quindi potrei tipo e tu allegare le mani subito o se lo entriamo con calma aspetta intanto te scassina subito dopo vieni via qua vieni indietro vieni indietro vieni 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 occhio via 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 lascia lascia ora no no cazzo vabbè veloci prendi no abbiamo rotto il vetro prendete tutto ah ah peccato abbiamo rotto quel vetro di merda in quel primo borsone il borsone lo metto sempre lì dietro altro borsone aspetta li metto giusto lì attenzione stanno arrivando ah ah cazzo prendiamo tutti i borsoni intanto sto prendendo tutti i gioielli i soldi io i borsoni li sto buttando sempre lì dietro ah aiuto ah ma che cazzo oh guarda quanta gente c'è fuori eh lo so eh lo so che cazzo no 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 se mi ha dato raga se cominciamo a portare via i gioielli eh 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 c'è troppo gente quando finisce l'onda i borsoni sono tutti qui sono tutti qui dentro i borsoni eh tutti li ho presi tutti ah allora ah no c'è l'ultimo qui possiamo provare a lasciare tanto con i borsoni gioielli si può correre si fatemi vedere quanto gente non c'è più borsoni li ho portati tutti qui dentro ah qua dentro ok aspetta ne andiamo ok sono tutti entrati eh no 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 perchè ancora non è arrivato il furgone come no non è arrivato ah è vero oh ma chi è che mi è no sono a terra che è che mi ha sparato tutti dietro oh merda ah Uston mi sta aiutando ti sta aiutando oh aiutami Uston you're looking kind of oh aspetta posizione era entrato tutti da qui sopra ah a parte non c'è l'onda lo so però non c'è ruba i gioielli 0 su 4 perchè bisogna aspettare eh quelli sono i miei borsoni che ho conto eh eccolo ecco il furgone sta arrivando e che palle se mi sparano sempre eccolo è lì lo vedo cominciamo ad andare vai prendete i borsoni prendiamo tutti Veloci veloci vai corri c'è manca c'è manca vai 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 non c'è l'orda vai non c'è l'orda vai oh merda sta arrivando da retro aia merda finito non mi ricarica portamone non c'è l'occhio vai dovrebbero essere gli ultimi borsoni mandano due due 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 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 se no l'avevamo fatta in stile oh buono 61.000 ho preso peccato per il mio livello e questa esperienza non è una serie oh quasi sei vai io prendo la prima vai non ho la maschera io compri io ho preso un oggetto di halloween io ho preso un'ultimo disco dell'arma canna lunga un attimo equipaggio e poi dire di solito vediamo la maschera aspetta aspetta se metto il mirino alla cappa che dite? no non voglio ripagere ragazzi se metto il mirino alla cappa è una cosa brutta costa troppo no scherzavo mi metto la maschera dell'uomo equipaggio che palle io ho finito gli slot dovrei ricomprarmi un altro slot ma costo 800.000 vediamo solo dei puntabilità si cosa prendo quelle puntabilità le assi ma eh si ma quali eh non so eh non so quelle che ti rimane quelle che ti rimane più mh beh quella del kit medico però anche le munizioni possono servire io ho un botto di abilità nel tecnico Massimile prende tutte le prime abilità Ecco, ho preso tutte le prime abilità Ok La potrai prendere, il kit pronto? Io esco una Vabbè, io raga direi che Che per questo primo episodio è tutto E che dire Ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi Ciao Ciao